Un libro sui nomi e sui titoli della Madonna, insomma, Renato Nicodemo ama proprio la Madonna. Sì, come già è stato detto dagli altri interventi a riguardo di questo bel testo sui titoli della Madonna che abbiamo voluto proprio quasi al termine di questo mese mariano che tra i nostri fedeli dell'anno Cerino Sarnese indica molto il mese di Maria e conoscere i titoli di Maria che attraverso questi duemila anni hanno caratterizzato e mettono in evidenza l'amore che noi come cristiani nutriamo verso la Vergine Maria e il professor Nicodemo ha fatto questo lavoro di raccolta, indica anche il suo amore alla Vergine Maria con la speranza che questo diventi anche, come prima proposta anche culturale, diventi anche un impegno ecco di continuare questa esperienza. Ma stasera parliamo anche del MEIC. Sì, il MEIC è il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale che è nato quest'anno ancora giovane ma è tanto... Di cui lei sarà l'anima essendo il responsabile dei rapporti con i laici. Sì, in effetti questo nuovo incarico anche di servizio alla nostra chiesa, c'è la Sarno di dialogo con i nostri laici ma anche di impegno culturale con tutte le esperienze presenti sul territorio vuole essere un'occasione di incontro, di contributo anche di riscatto e di rinascita delle nostre terre. Sagra per dare una mano ai bambini. Sì, all'interno poi di questa struttura dove stiamo vive quotidianamente il buon samaritano che molti già conoscono e un'associazione di laici, di giovani a favore di bambini di nocera bambini del disagio, della periferia e abbiamo voluto proprio una sagra il prossimo 15 e 16 giugno per una raccolta di fondi grazie a tanti giovani che si adoperano per la colonia per questi bambini e dare loro una settimana davvero di svago anche vivendo insieme questa esperienza marina. Bocca al lupo! Grazie e un saluto a tutti e anche un ringraziamento a tutti coloro che ci aiutano e si sostengono come strumento della provvidenza divina.